Per Luigi Leonardo, esponente del centrodestra per San Giustino, dopo tanto fervore negli ultimi 2-3 mesi riguardanti alcuni settori tipo viabilità ed altro, lei si è speso molto per Selci, in cambio però ha ricevuto risposte piccate dalle associazioni cittadine, come mai? Io penso che più che risposte piccate ci sia stato un qualcosa di mancanza di una completa correttezza da parte del coordinamento delle associazioni che in un comunicato trasmesso agli organi di informazione ha in qualche modo avvisato tutti che aveva di fatto protestato e concordato anche una modalità d'azione futura con esponenti che sono notoriamente e per istituzione e per cariche politiche del Partito Democratico. Sinceramente questo non mi sembra corretto, lo dico e lo ribadisco, mi sembra anche che ci sia una serie di problemi di rappresentanza a questo punto perché non vorrei che le associazioni non rappresentassero il paese e di fatto il coordinamento non rappresentasse le associazioni. Notoriamente il coordinamento delle associazioni è nato nel 1999 e nel 2000 e c'era un motto che il vecchio presidente della filarmonica, Pietro Starnini, diceva il paese per le associazioni e le associazioni per il paese. Mi sembra che ci sia un totale scordinamento e non legame tra le associazioni e il paese. Le associazioni avrebbero dovuto, il coordinamento avrebbe dovuto, e questo distingue mi sembra opportuno che venga in qualche modo precisato nel breve, in qualche modo chiamare tutte le rappresentanze istituzionali del paese per riuscire comunque ad uscire da una crisi che mi sembra chiara nel nostro paese, una crisi che è fatta di crisi del commercio, crisi dell'intera viabilità, ma crisi anche del sistema associazioni. Quello che le associazioni di fatto richiedono, poi richiedono degli investimenti di una certa importanza. Penso che quindi sarebbe stato in qualche modo opportuno coinvolgere tutto quello che è la rappresentanza istituzionale nel Comune di San Giustino. Per chi non lo sapesse, lei si riferisce alla riunione che c'è stata alcune settimane fa, credo, alla sala filarmonica di Selci, dove è stato chiamato il Partito Democratico, alcuni assessori sono intervenuti, e non è stato chiamato nessun esponente della minoranza. Forse è arrivato il momento da parte del PD di iniziare a fare comunicazione politica, siamo a meno di un anno dalle elezioni, probabilmente la campagna elettorale per il PD inizia un po' prima. Intanto credo che in effetti poi quello che emerge sono solo chiacchiere, chiacchiere e non vera lotta, perché il problema qual è? Se la maggioranza nel Comune di San Giustino, almeno quella in essere, è del PD di fatto, io non comprendo bene come proteste e anche grosse richieste, con veemenza in qualche modo, con forza di intervento da parte di un sindaco, che è espressione piena del PD, possano in qualche modo essere trasmesse da quello che è la segretaria, con tutto il rispetto ovviamente per le persone del PD di Selci, del circo del PD di Selci, e da esponenti comunque che in giunta e in consiglio rappresentano il PD in Selci. Io ricordo una cosa, che all'inizio di questa legislatura le associazioni, il coordinamento, ma dico le associazioni perché forse c'era una rappresentanza complessiva delle stesse, chiamarono tutti coloro i quali erano stati in qualche modo eletti in Selci, al di là delle elezioni politiche, comunque residenti in Selci, e ci chiesero una serie di impegni in una certa direzione. Noi credo che abbiamo in qualche modo cercato nel rispetto del nostro ruolo e nelle possibilità del nostro ruolo di cercare di portare avanti queste questioni. Nell'altro caso ci sono state ovviamente gravi deficienze che sono state in qualche modo manifestate anche di fronte alla popolazione, anche nel corso di un Consiglio comunale che noi abbiamo voluto in Selci e non altri. C'è chi dice, sono voci di corridoio che si rincorrono da più parti, che all'interno della minoranza alcuni esponenti di spicco si siano sentiti usati come grimaldelli per far uscire una protesta nei media locali e poi sia tutto tornato come prima. Ma in effetti poi alla fine è anche vero, cioè diciamo che sin dai primi incontri che abbiamo avuto e con le associazioni ma soprattutto con le persone che avevano comunque dei problemi abbiamo cercato in tutti i modi di, al di là delle convinzioni, al di là delle ruole, al di là delle posizioni anche su certe situazioni, parlo proprio chiaramente in maniera chiara anche del senso unico, abbiamo cercato che comunque nei limiti del rispetto delle norme, dello statutario, eccetera, la popolazione fosse ascoltata. Quindi questo sforzo è stato invece in qualche modo tradotto come se fosse stata una manifestazione in qualche modo di una volontà di fare populismo, di fare comunque una ricerca demagogica quasi contro il consenso che il PD aveva comunque in Selci. Non è così. In effetti abbiamo cercato sempre di portare all'attenzione dell'istituzione comune le problematiche di Selci. Le risposte non ci sono state date, peraltro ci dispiace che anche altri consiglieri che non sono di opposizione ma che sono di maggioranza e che sono di Selci non riescano comunque a far sentire in qualche modo la loro voce cercando di portare in una direzione. Quindi è univoca la volontà comunque di sollevare il problema Selci. Il problema Selci in quanto realtà in qualche modo dimenticate con grosse problematiche in ordine al commercio, in ordine alla viabilità, in ordine all'associazionismo eccetera. C'è chi dice e sono sempre voci di corridoio che si rincorrono che il coordinamento delle associazioni a volte sia strumentalizzato. Ma con chiarezza. Intanto bisogna appunto di comprendere se coordinamento coordina, se il coordinamento coordina le associazioni, ovvero se tutti i membri dell'associazione, tutti i presidenti dell'associazione, tutte le rappresentanze dell'associazione insieme al coordinamento sono concorde con le ultime uscite del coordinamento, sinceramente. Posso essere ovviamente tranquillamente smentito da un atto, però mi sembra che invece ci sia in qualche modo una volontà di far prevalere talune decisioni anziché altre e con decisioni che hanno in qualche modo una connotazione di carattere politico. Questo a me sinceramente dispiace proprio per essere legato veramente al paese di Selci e quindi credo che le problematiche di Selci debbano essere esposte senza che abbiano comunque una connotazione e una caratterizzazione di tipo politico-partitico. C'è stato negli ultimi 4-5 mesi a proposito del cambio di rotta del coordinamento delle associazioni c'è chi dice che in una prima fase erano state fatte delle promesse non mantenute e mi riferisco al cambio degli assessori in giunta, questo un po' fece cambiare la rotta del coordinamento per poi nelle ultime settimane riallinearsi alla strategia degli anni passati. Evidentemente sì, questa è proprio la fotografia di quello che sinceramente penso possa essere in qualche modo avvenuto, cioè il coordinamento è stato tranquillizzato dal fatto che comunque e con promesse mirabolanti da parte del sindaco nomine di assessori che avrebbero potuto in qualche modo smuovere e garantire anche a Selci e non solo ovviamente a Selci uno in qualche modo rinnovamento della politica locale, non si siano tradotte in realtà. Mi sembra invece che, e la inizio anch'io alla fine, sia iniziata la campagna elettorale e che quindi il PD si sia mosso nei limiti del possibile con forme anche di simpatia all'interno del coordinamento delle associazioni. Con chiarezza va detto, credo che sia opportuno che tutti sappiano che si prende quel tipo di direzione. Poi ognuno ovviamente prenderà e trarrà le proprie conseguenze. Col senno di poi, ritornando indietro, riavvolgendo il nastro di questo ultimo anno di battaglie di Pierluigi Leonardi per il paese nativo, per il paese di Selci, rifarebbe esattamente tutto quello che ha fatto in questo anno? Sì, perché a volte anche contro quelle che sono posizioni politiche chiare e nette che appartengono invece al proprio essere. Perché in effetti comunque c'è stata una serie di emergenze che hanno coinvolto Selci e che necessitavano comunque di porre all'attenzione di tutti talune problematiche. Quindi io credo che debba essere rifatto. Con volontà dico anche che bisogna comunque cominciare a spogliarsi della propria maglietta politico-partitica e cercare di portare avanti appunto questo tipo di problematica. Tra l'altro nel mondo, in Italia, sta cambiando anche il rapporto, quello che sono a livello proprio di partiti, bisogna cercare comunque di guardare la realtà e nel mio caso la realtà locale per cercare di portare avanti e risolvere problematiche che sono invece in qualche modo negative per l'intera popolazione. Un'ultima breve domanda, ricollegandomi a quanto detto prima. Anche con il rischio di aver perso qualche voto per le battaglie che ha portato avanti? A lungo andare io credo che la tranquillità e i modi anche pacati a volte che sono stati utilizzati per cercare di portare avanti alcune problematiche siano comunque paganti. Non penso e non mi interessa da un punto di vista politico numericamente dei voti. Credo che invece bisogna cominciare a pensare che bisogna portare avanti quelle che sono le battaglie giuste e corrette più che non pensare ad un'immediata valutazione in termini di voti e di consenso elettorale. Dovrà lavorare per altri 8-10 mesi in Consiglio Comunale? Come li spenderà Pierluigi Leonardi? Sollevando come sto sollevando tutte le problematiche che vengono fuori. In ultimo appunto problemi anche legati alla valutazione e parlo in quel caso di una rappresentanza di tipo istituzionale alla valutazione per esempio dell'incidenza che ha l'IMU sulla seconda casa sulle attività produttive. Sono battaglie che vanno comunque condotte e che credo che tutto sommato possano essere in qualche modo esempio di come uno possa andare verso una certa direzione che è la direzione della rappresentanza della popolazione e delle sue problematiche più serie e vere.